Da Bad Point compri tutto a interessi zero. È ufficiale all'Acedonia uno Sprar per 16 minori migranti. Dopo che a più riprese l'amministrazione comunale e la comunità avevano espresso la volontà di mettere in campo un'accoglienza degna di questo nome dicendo no a soluzioni estemporane e poco accettabili. Forte la soddisfazione del sindaco Antonio Di Conza che ai microfoni di Telenostra ha parlato del progetto e di quello che succederà nelle prossime settimane per l'arrivo dei 16 ospiti, tutti rigorosamente minori. Una soddisfazione enorme perché innanzitutto siamo arrivati primi quindi questo vuol dire che il Ministero ha valutato positivamente il nostro progetto. Soddisfazione enorme perché questa amministrazione si è sempre dichiarata a favore delle forme di accoglienza ma a favore di una forma di accoglienza che sia comunque programmata dall'amministrazione stessa. E' per questo che abbiamo fatto una lotta non indifferente mesi fa riguardo all'arrivo presunto così come comunicato dalla Prefettura di circa 40 migranti in un agriturismo dismesso e abbiamo cercato di attuare quello che poi ci ha proposto anche una circolare del Ministero dell'Interno a favore della clausola di salvaguardia che prevede appunto che i comuni che attuano delle forme di progettazioni inerenti allo SPRAR possano poi difendersi dall'arrivo massiccio indiscriminato dei migranti secondo i cosiddetti CAS. E' per questo che abbiamo deciso di fare questo progetto e abbiamo aderito all'invito del Ministero. Come detto è un progetto inerente all'accoglienza di 16 minori non accompagnati tra i 16 e i 18 anni. Ci sono due immobili appartenenti alla diocesi di Arana, Nurpino e la Cedonia e due comunità che accolgono 8 migranti per ognuno sorella Luna e fratello Sole.